Purtroppo per gli operatori balneari della Sassonia è ancora buio pesto, niente ruspe e niente sassi all'orizzonte. Tra 24 ore si apre ufficialmente la stagione ed ancora non si conosce la data di inizio lavori di ripristino degli arrenili. Lo stato dell'arte è che bisognerà aspettare almeno fino al 6 giugno per capirci qualcosa, data in cui è stata convocata dalla Regione Marche la conferenza dei servizi. Il che vuol dire che nelle più rose delle previsioni l'area leader sarà pronto per piantare le file degli ombroglioni mancanti non prima del 10. Questo significa che 20 giorni di giugno se ne sono andati, mandando in fumo ogni tipo di programmazione. L'associazione di categoria che rappresenta i bagnini esprime un forte disappunto per questa situazione imputabile sì alle lungaggini burocratiche ma anche alla tempistica sbagliata utilizzata dal comune di Fano che ha inoltrato la domanda di autorizzazione in notevole ritardo ad inizio aprile, quando avrebbe dovuto essere presentata almeno entro febbraio, cioè con due mesi di ritardo. Ritardo che ora i bagnini si ritrovano sul groppone. Ieri abbiamo appreso questa notizia che il 6 di giugno avremo una conferenza di servizi in regione perché la domanda che è stata inviata dall'amministrazione è stata avviata i primi di aprile, quindi non proprio nei tempi più giusti, perché come noi già evidenziavamo era il caso di inviarla un po' prima, perché poi ci sono delle prassi che sono molto lunghe abbastanza complicate anche da gestire, però questo ci porta a slittare tutto, il montaggio delle strutture, qui facciamo tanto, anche noi investiamo per cercare di aprire in bassa stagione, per dare il servizio in bassa stagione, per cercare di allungare le stagioni in modo che la gente non arrivi solo in luglio, agosto, in questi mesi centrali, però ci troviamo d'altra parte questo blocco che ci stoppa e ci ferma. Questi lavori vanno fatti entro massimo la metà di maggio, quello che noi abbiamo sempre chiesto e continuiamo a ribadire e a chiedere.